L'amorosa indiscrezione a Sanremo, rissa e parolacce tra due dietro le quinte. Chi sono e cos'è successo? Sanremo momenti di tensione al teatro Ariston nel corso della terza puntata del Festival di Sanremo. Secondo indiscrezioni, durante la diretta sarebbero volate parole pesanti tra due cantanti. Tutto sarebbe accaduto dietro le quinte. Insulti, un accenno di rissa e, secondo i ben informati, anche il lancio di una bottiglietta d'acqua alle protagoniste della rissa protagoniste del diverbio. Secondo i rumors e i social, sarebbero due cantanti, Madame Anna Oxa, oppure Madame Ariete. Conferme, al momento, non ce ne sono. Quello che è certo è che la scaletta del programma è stata modificata. Cambiando l'ordine d'ingresso di alcuni cantanti.